Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Ora, stai in un po' di livelli di elezione? Ci sono persone che viene a fare il tonto, ma noi non. Se necessitano fare qualcosa, siamo qui per questo. Sono insinissuti questi duefrani. Il motivo è così grande, ma voi spiegolo, il poso tutto il cello che scopo? Oh lo so, vorrei fare il cello, però potesse tocarsi al cello. Perch минistre i oscolti il cello, hanno anche bola del cello. Ma cosa cosa che si tratta? Grazie a tutti